A Castel San Giovanni hanno debuttato le dog card, buoni prepagati del valore tra i 500 e i 700 euro spendibili in negozi, farmacie e veterinari convenzionati. I destinatari sono sette famiglie di Castel San Giovanni che per prime hanno aderito ad un bando per l'adozione di un cane ospitato nel canile di Monte Bolzone di Agazzano. L'iniziativa era stata lanciata a dicembre e mirava in modo particolare a incentivare l'adozione di cani anziani, spesso i più dimenticati. Tutti puntano all'adozione dei cuccioli o dei cani giovani per un sacco di motivi, però è vero che adottare il cane anziano molte volte ha un sacco di vantaggi perché il cane anziano conosce la strada quindi da un punto di vista anche di abitudine a quelle che sono le routine giornaliere, il nostro stile di vita il cane anziano si abitua molto più velocemente e poi anche per toglierli dal canile. Il canile è sempre stato considerato comunque un punto di passaggio e mai di arrivo e quindi soprattutto i cani anziani secondo noi hanno diritto, oso dire più diritto, di uscire dal canile proprio in quelli che sono gli ultimi anni della loro vita. Le prime sette famiglie sono diventate testimonia della campagna Adotta un amico. Lo consiglia quindi di adottare un cane? Assolutamente sì, consiglio vivamente anche perché insomma ci facciamo condurre una vita sana, soprattutto anche i padroni perché ci fanno alzare molto spesso dal divano per uscire. I fondi non spesi rispetto ai 20.000 euro che erano stati distanziati a inizio anno verranno reimpiegati per un secondo bando e per altre iniziative. Vogliamo anche organizzare con il gestore di Monte Bolzone degli incontri che diffondano sempre di più la consapevolezza di come sia importante adottare soprattutto un cane anziano per cane anziano intendiamo un cane che ha più di sette anni. Sono cani straordinari che hanno tanto da dare soprattutto a persone appunto che vivono sole, che sono anziane o persone anche con bambini.